e lo avviò verso Ilario era sotto un albero lontano dai cespugli e dall'erba alta era passato qualche secondo da quando aveva sparato alla lepre e aveva visto la testa bionda del fratello precipitare in un cespuglio il fratello era nascosto accanto al cespuglio e lui sparando alla lepre lo aveva ucciso Ilario corse tenendosi basso sull'erba e in pochi secondi raggiunse il cespuglio da dove il fratello lo guardava ormai senza vita Dio mio Dio mio gridò con voce stridula il fratello sembrava guardarlo senza fare commenti imprecando scenità verso il cielo Ilario si chiese se non fosse stato un accanito cacciatore se non avesse avuto il bisogno di distruggere le vite inferiori all'umana per goderne a tavola avrebbe ucciso il fratello divenne più calmo e si rispose che lui già uccideva con l'invidia il fratello ogni giorno perché in tutto il fratello era superiore a lui con il tempo questa consapevolezza invase Ilario come una marea e lo avviò verso una nuova evoluzione e lo avviò verso una nuova evoluzione grazie a tutti